Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una nuova puntata di The Banding of Isaac Afterbirth Plus Daily, daily, daily Con Eden, va bene Sì, dedication ragazzi Dedication 31 daily fatte Finalmente Ciao mostro Quel mostro è comparso per l'effetto dell'attiva Icoli è uno dei peggiori oggetti sulla faccia del pianeta E trasforma chiunque mi tocca in cacca Ma se mi tocca vuol dire che ho subito danno E quindi papappero Allora, vediamo che caccia Abbiamo una bomba Intanto, il danno è infimo se non erro 346 Qui non possiamo fare nulla di interessante Qui invece è già un po' meglio Peccato che dobbiamo decidere se o la stanza segreta O La tinted Quindi vediamo un attimo A bocce ferme Che cosa succede Qui sparerà fuori un'altra Una chiave Ok Questa è pesante Monstro aiutaci tu Un po' di danno Lo abbiamo Non mi ricordo se fa danno da contatto Costei Sì Fa danno da contatto E anche tanto Quindi faremo così Ci prendiamo un cuore rosso Finalmente E ci andiamo ad aprire quella tinted Sperando No, qua non ce la faccio E invece Allora, facciamo prima così Ci prendiamo la chiave Perfetto, così Un po' di roba ce l'abbiamo Non mi dare una cesta Perfetto la cesta Esattamente quello che volevo Ah, però bombe Bombe, bombe interessante Ma la stanza super segreta Non ne ho La più pallida Idea Da cazzo Quasi quasi mi conviene Eh sì che mi conviene Yes Una chiave l'abbiamo consumata Speriamo di trovarne un'altra Potrebbe essere qua o di là La stanza segreta Potrebbe essere anche qua Quindi è inutile sprecare bombe A cercare una stanza Che non troveremo mai Probabilmente Quello è grazie a dedication Una nuova pillola È apparsa Questa è tanta roba Soprattutto questo E quindi ce lo portiamo Bene bene Ci abbiamo sei Ah ecco Sette litigrers Ma perché abbiamo preso Il fungo maledetto Che ci abbassa Enormemente Le caratteristiche Non è vero Non ci abbassa niente È l'altro fungo Che ci abbassa le caratteristiche Basta Queste stanze schife Può apri gli occhi Perfetto Qua c'è la stanza Negli oggetti Adesso ci manca Anche un solo Libro per diventare Topi di biblioteca Cazzo Non c'ho Vabbè Cerchiamo una chiave Qui Questa è la stanza Della chiave Me la sento Dacci una chiave Maledetto Bravissimo Bravo Non so che cos'è Quell'oggetto Faster bomb Ah posso lasciare Più bombe velocemente Sì Ok È chiaro Ho già visto in funzione Questo tipo di oggetti Sì Lo faremo Due chiavi Ottime Direi Monstro Monstro Cazzo Pensavo mi colpissimo Beh Stavolta Mai colpito Altro tierzap Allora io lo prendo Void Tanto la pillola Non posso assorbirla Giusto Sì E mi sono ripreso Un cuore nero Perfetto Ci sta Compreso Tanto le cariche Sono le stesse Mai vista questa stanza Giuro De emperor De emperor Non era questo Un'altra Siamo cappati Sì Siamo cappati Con la velocità Delle lacrime Ok Tu sei diventata Una bellissima cacca Oh perfetto Ho fatto benissimo A non usare L'oggetto Perché andremo ad assorbire Little child Visto che non ci interessa Assolutamente Se poi vediamo Di prendere danni a cazzo E' anche più divertente Andiamo prima Andiamo prima lì Beh Non è male come ram Qui Assorbiamo E ci prendiamo danno in più Perfetto Adesso andiamo a cercare La stanza Degli oggetti Perfetto Oh cazzo Non me ne ho accorto Sangue suga Totalmente inutile Solo una chiave Che potrebbe essere Un problema Effettivamente Sto pensando Se convenga Più portarsi Dietro The Emperor Non lo so Non lo so Per fare prima Forse Conviene Quanto mi piacerebbe Poter volare qua Molto Mi piacerebbe Molto Non posso Qui che c'è Ottimo Tammised Che ho Bellamente Succhiato via Come si è Come è scoppiato Qualcosa Non ho mai visto Scoppiare un pezzo solo Ok Quindi Ci manca Una stanza sola Che faremo Cacche 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 Pillole che non ci interessano Perfetto Possiamo scendere Abbiamo visto Tutto a livello E può essere Entrambi i posti Ma porco Cane Va bene Meglio di Empress Forse si Se arrivo alla Boss Rush Perché Il danno è veramente poco Quindi Siamo in Basta Da Flooded Caves Però Avrei sperato Di meglio Se questo Ci abbiamo Non è che Speravo non mi colpisse Oh merda Non pensavo Potessi farlo Quanto sei resistente Porca puttana Chi è il secondo Megamaut Ci mettiamo a schivarlo E basta È Cristo Però Non si possono Prenderti sti danni Tutto c'è Molto Interessante Sì De Veros Quindi adesso Che drop Potrebbe lasciarmi L'asta Chissà Oh la cab Doppio a cap Posso prendere Un oggetto Figo Ma figo Quanto Vorrei trovare Un attivo Figo O un libro La butto lì Eh lui Non so che fa Non mi ricordo Ma mi sa un cazzo Poco un cazzo Niente oggetti fighi Quindi ci prenderemo Questo Che non so che cosa fa Ma è una cazzata Perfetto Cioè ha distrutto Tutto Tutto ciò che c'era Nella stanza Ok Forse la prossima volta È meglio che leggo prima Che cosa fa gli oggetti Per esempio Ma adesso lo sappiamo E non lo prenderemo mai più Ero convinto Che fosse l'attiva Quella dell'occhio Monete E invece no Evidentemente Vabbè Il boss è qua Ce lo facciamo Ma basta Prendere danni Sì Trasforma tutto quello Che non c'è In moneta Credo In una moneta Non ho capito Vediamo se tiriamo Un oggetto Aspetta No Non vale Come libro Porca puttana Ma comunque è meglio No HP app no Defined È sicuramente meglio Questo non è male In realtà Eh Allora Vediamo se facciamo così Esatto Non è male Perché lasciamo il creep A terra E questo ci permette Di ucciderli Anche se non Questi no Va bene Trasformati in cacca Chiaro La mappa sì Il boss è Probabilmente Lassù Però Scanzo di equini No Andiamo giù No invece era qua Ok Ma dalla conformazione Della stanza Non avrei mai detto Del piano Non avrei mai detto Che sarebbe stato qui In realtà Utile adesso Bravo Mi dai letterghish Immagino Cazzo Sono lontanissimo Sono lontanissimo Non mi conviene Qua sì Avrei per finito Le quattro ceste dorate Per una volta Che c'ho la chiave Scary at heart Damn Dai veloce 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 Un cuore Curse of the lost Ti odio Questa è fede in più Quindi maggiore possibilità Di spawn Di cuori blu Non ho visto che qua C'era una stanza Interessante Che non è interessante Me lo rallenti Per favore Little mission Perfetto Perfetto Merda Fico Mai più problemi di chiavi 18 Mi sembra più che sufficiente Per finire la run Ci sono già stato C'era Gio Un shop Quasi Shop Tipo Ci ho provatissimo Probe Oh Gapiscolla Not Really Interesting No Shield Tears Purtroppo Mi tocca Prenderlo Cazzo Quello lo vorrei Però Non so se vorrei più Quello O l'altro Aspetta un attimo Moneta Voglio più Voglio più questo Che è quello Che mi dà Un minion Randomico All'inizio Di ogni Piano 6 Credo Mi cambi Il personaggio Dovrei 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 sbagliare Sono così tanto fortunato Beh c'è 350 In effetti Cazzo il piano di mamma Questo Allora no Non posso usare Undefined Eh cazzo Sarebbe anche bello Arrivarci da mamma Però Tipo Allora abbiamo detto Che qua non è Qua non può essere Qui nemmeno No No da qua ci sono partito Quindi è giù E per forza a sinistra Da qui Può essere Per forza giù Per forza giù No Per forza di qua Qua c'è lo shop Cazzo ci sono venuto da qua L'ho toccato L'ho fatto veramente Per forza giù Allora Io Farei così Poi farei così E con undefined E chi carico Proverei a far questo Cazzo C'è un'altra batteria? Niente Ci riporta sempre qua So che c'era Un'altra batteria Questa potrebbe essere 24 ore No Non era un cacchio Di nulla Oh santo cielo Grazie Grazie per avermi fatto Sprechiamo la chiave Niente Va bene Finita la ram E questo è quanto Eh sì vabbè Ho perso un sacco di tempo Uh Allegra ragazza Anche la DB Anche la DB Anche la DB gioca da Isaac Ma L'osco vince sempre Pare Quindi Tra le Tra i miei Amici di Steam Va bene ragazzi Questo è quanto Spero che il video vi abbia divertito E ci sentiamo Nel prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti